benvenuti al nostro nuovo videogiornale spirito di assisi sono state tante le iniziative che si sono tenute in occasione del 35esimo anniversario dello spirito di assisi che ricorda lo storico incontro interreligioso di preghiera per la pace del 1986 voluto da san giovanni paolo secondo martedì 26 ottobre nella sala della conciliazione del comune di assisi si è tenuto un momento di riflessione sul tema le religioni a servizio delle fraternità nel mondo mercoledì 27 ottobre in mattinata c'è stata la cerimonia di svelamento della targa casa di vita house of life un riconoscimento attribuito alla città di assisi dalla fondazione wallenberg per la grande opera di salvezza degli ebrei posta in essere durante le persecuzioni razziali la cerimonia ha avuto luogo lungo la via borgo san pietro dove si trova il monastero di santa colette uno dei monasteri che insieme a tanti altri conventi di assisi hanno ospitato e nascosto gli ebrei durante gli anni bui della seconda guerra mondiale nel pomeriggio nel refettorietto del convento della porziuncola si è tenuto l'incontro interreligioso di preghiera al quale hanno partecipato oltre il vescovo domenico padre petro eisù chiesa ortodossa romena pavel gaievski pastore valdese kati alexander comunione anglicana dottor maurizio ciarfuglia esponente bahai la dottoressa zainab mujud e rabbia long oshen godstein di religione ebraica all'inizio del momento di preghiera è stato ricordato l'imam di perugia abdel kader venuto a mancare nel gennaio scorso a causa della pandemia da covid 19 al termine dell'incontro è stata recitata la preghiera cristiana ecumenica di papa francesco domenica 31 ottobre mattina nella basilica superiore di san francesco è stata celebrata la santa messa presieduta dal padre vescovo ritiro diocesano ricominciare con un cuore che arde è il tema del ritiro diocesano organizzato dall'ufficio per il rinnovamento delle parrocchie con le piccole comunità in collaborazione con gli uffici diocesani che si terrà domenica a 7 novembre alle ore 15 presso il centro pastorale di santa maria degli angeli l'incontro che vedrà la partecipazione del vescovo domenico sarà coordinato dal vicario generale don jean claude asumé da padre alfredo avallone cappellano dell'istituto serafico di assisi e da don matteo renga vicario parrocchiale nelle parrocchie di santa maria assunta in valfabbrica e santa maria dell'olmo in casa castalda il ritiro sarà suddiviso in due momenti durante il primo momento si rifletterà sul tema il tempo di ricominciare la strada mentre nel corso del secondo momento ci si soffermerà su il tempo di ricominciare la strada con un cuore che arde per partecipare in presenza all'incontro è necessario compilare il relativo modulo presente sulla home page del sito diocesiassisi.it in base al decreto legge numero 105 del 23 luglio 2021 è obbligatorio presentarsi muniti di green pass per coloro che non sono in possesso del green pass sarà disponibile il servizio per tampone rapido gratuito in loco offerto dalla misericordia di assisi che verrà effettuato dalle ore 14 alle ore 14 e 50 prima di accedere agli spazi dedicati all'iniziativa per usufruire di questo servizio è necessario specificarlo nell'apposita voce contenuta nel modulo di iscrizione per informazioni scrivere alla seguente mail c.mariafamigliedelvangelo.com azione cattolica l'equip formativa di azione cattolica della diocesi di assisi nocera umbra gualdotadino con la partecipazione di alcuni responsabili associativi della diocesi di foligno è impegnata nella definizione di un percorso formativo destinato a giovani ed adulti che intendono mettersi in discussione rispetto al proprio rapporto con dio e che si apprestano ad intraprendere il servizio della catechesi o che già operanti necessitano di nuovi stimoli un progetto che ha preso avvio già nello scorso anno con incontri in modalità a distanza tra educatori sacerdoti e professionisti dell'educazione volto a sostenere non solo i gruppi di azione cattolica territoriale ma anche le singole realtà parrocchiali delle due diocesi promotrici la partenza è ormai prossima la prima tappa del cammino infatti è prevista domenica 14 novembre 2021 un'intera giornata da trascorrere ad assisi presso il seminario regionale scandita da attività e momenti di preghiera pensati per conoscersi confrontarsi riscoprirsi come persone e cristiani entrare in profonda relazione per mezzo dei parroci l'invito a partecipare arriverà a tutti i catechisti educatori e responsabili parrocchiali delle due diocesi con una lettera di accompagnamento volta a rinnovare la disponibilità dell'associazione al servizio delle parrocchie vi ricordiamo di inviarci i vostri contributi video o anche solo immagini da tutte le parrocchie realtà della diocesi scrivendo un messaggio whatsapp al numero 339 388 43 42 vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci al prossimo video giornale